Gli elastici, attenzione, si sta per andare agli ordini dello starter. Ci siamo, si va agli ordini dello starter, sull'esordre. 3500 metri, percorso 8 dell'ippodromo di San Rossore, partiti. Time Fatale galoppa il leggero vantaggio nella prima parte di gara. Su Atena du Berlè, Moved, Impera Red e poi i due in coda sono Leonardo da Vinci e Mansham, si è per mobile davanti al traguardo. Time Fatale salta in vantaggio su Atena du Berlè che galoppa al suo interno e poi tendono un po' tutti ad allargare su questa curva. Time Fatale, poi Time Fatale viene sfilato da Leonardo da Vinci. se la gioca davanti Raffaele Romano con Leonardo da Vinci su Time Fatale che all'esterno Atena du Berlè. Poi Moved, Impera Red e Mansham in coda. Leonardo da Vinci, Time Fatale allargo Atena du Berlè. quando siamo sulla prima diagonale. Leonardo da Vinci allunga da Atena du Berlè. Time Fatale ha preso un certo vantaggio il grigio davanti. su Time Fatale, Atena du Berlè, Impera Red che precede Moved in coda mensh. Leonardo, Time Fatale, Atena du Berlè che continua a saltare non benissimo, anzi, questo salto direi incerto sulla curva di fondo. Leonardo da Vinci ha 5,6 di vantaggio su Time Fatale, Atena. lo stesso schema. Poi Impera Red, non brillante Time Fatale su questo ostacolo in diagonale. Leonardo da Vinci, Time Fatale, Atena du Berlè, Moved, Impera Red e mensh. Secondo ostacolo della diagonale. Time Fatale e Atena si controllano davanti a Impera Red. ha un giro esatto dalla conclusione davanti al pubblico del ristorante, la siepe mobile per l'ultima volta con sempre Leonardo in vantaggio su Time Fatale, Atena du Berlè, Impera Red, Moved ed in coda mensh. Ultimo giro, Leonardo da Vinci, Time Fatale, Atena du Berlè, Impera Red. Stesso schema con Time Fatale che prova ad andare in caccia di Leonardo da Vinci, si trascina Atena du Berlè, poi Impera Red. Stesso cliché, Leonardo da Vinci, Time Fatale, Atena du Berlè, Impera Red, Moved, in coda mensh, metà dritta di fronte, Impera Red, Time Fatale, Atena du Berlè, Impera Red. Siamo a circa 900 metri da conclusione. Scappa Leonardo da Vinci, il grigio prima della curva di fondo. Leonardo da Vinci è in vantaggio su Time Fatale, Atena du Berlè che si concretizza, Impera Red con Atena che avvicina Leonardo e inizia a mettere pressione al grigio di Trogeri. In corda c'è anche Impera Red con Big Joe che aspetta la retta. Leonardo attaccato da Atena du Berlè, all'interno c'è Impera Red, poi Time Fatale con Atena che va in caccia di Leonardo. tra i due Impera Red, prova a vincere la Raffaele che allunga da Atena du Berlè che sembra aspettare l'ultimo ostacolo. In corda c'è Impera Red con Leonardo da Vinci in vantaggio, attaccato di dentro da Impera Red, di fuori alla caduta di Impera Red. Ai ai ai. Leonardo da Vinci stacca tutti allora e va a vincere il grigio. Leonardo da Vinci, facile, raffro mano per Christian Troger, secondo è la francese, Atena du Berlè, terzo poi Moved, la caduta sull'ultima siepe di Impera Red. Peccato. E la gioia di raffro mano. Leonardo da Vinci si riprende quello che Ammirano aveva lasciato, secondo Atena du Berlè, la francese. 3-1, terzo, Moved, numero 5, 3-1-5. Andiamo avanti con le immagini per vedere quarto time fatal, 3-1-5-6. e poi Mensh. E per il criterio di inverno, Leonardo da Vinci. In fondo vediamo Impera Red, meno male che galoppa più indietro, si gira l'affro mano. E questo è tutto. L'ultimo salto, quello che mette fuori gioco Imperial Red, parzialmente anche Atena du Berlè, che in quel momento sembrava però forse già battuta, è Leonardo da Vinci, il grigio di Christian Troger, che si afferma. Raff romano, sicuro, in testa, fin dall'inizio. Raff, complimenti, un cavallo che l'ultima volta forse non ti aveva dato quello che ti saresti aspettato. Ma, sai, rientrava, poi forse ho sbagliato un po' io, eccesso di fiducia, pensavo di non perdere mai, invece ho perso. Capita. Invece oggi si è andato più sul passo. E ha risposto alla grande. È un gran bel cavallo questo Leonardo da Vinci. Complimenti a Raff romano, a Christian Troger per la vittoria in questo criterium d'inverno. È stato ripreso anche Imperial Red e adesso seguiamo come sta Joseph Bartosz.